Conosci un indicatore che prevede l'andamento del prezzo? Bene, io no. Perché? Perché gli indicatori come sono costruiti? Sono degli algoritmi matematici, ok? Di conseguenza gli arrivano dei prezzi, boom, 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 e loro fanno il calcolo di questi prezzi e restituiscono o un'oscillazione o restituiscono un flusso sostanzialmente di movimento. All'interno di quel flusso di movimento si possono riconoscere dei pattern, delle cose ricorrenti, eccetera, eccetera, è ovvio. Ma hanno davvero un valore previsivo? No, perché l'indicatore non conosce quale sarà il prossimo valore che lui inserisce nel calcolo, quale sarà il prossimo prezzo che lui inserisce nel calcolo. Questo lo sa solo il prezzo. Quindi, non mi fermerò a questo video, voglio insistere su questo concetto, ma per oggi ti dico, uno, che quanto più preciso sarà lo schema del prezzo, quindi quanto più preciso sarà un... ci troveremmo in una situazione di mercato a livello di studio del prezzo precisa, quindi o un forte trend o una congestione molto bella, quanto più l'indicatore, diciamo, acquisterà valore. E quindi questo è un primo punto che ci dice che comunque lo studio del prezzo deve avvenire precedentemente e poi cercare sull'indicatore una conferma. Perché l'unica cosa che può fare l'indicatore è confermare quello che il prezzo ci mostra. Perché voi considerate che già lo studio del prezzo è uno schema che comunque non sempre proseguirà in questo suo schema e quindi a volte lo studio del prezzo stesso, nudo e crudo, ci darà lui stesso delle informazioni previsive sbagliate. Ma la probabilità che siano sbagliate è molto, molto meno inferiore di dare retta a un indicatore, a un insieme di indicatori prima sostanzialmente che il prezzo ci abbia appunto fatto vedere un qualcosa di interessante sul grafico. Quindi, morale della favola, prima si guarda il prezzo, situazioni che avresti comunque tradato guardando il prezzo possono essere confermate attraverso lo studio di un indicatore. esempio stupido, ci sono dei cicli razzisti, arrivo su un supporto, mi piace, lo comprerei comunque, l'oscillatore, a quel punto prima di comprarlo aspetto l'incrocio dell'oscillatore. Esempio stupido, oppure il prezzo fa un minimo, poi fa un altro minimo, arrivando su un bellissimo supporto lo trado solo se esiste una divergenza. ma l'avrei tradato comunque, già comunque mi sarei interessato, già comunque l'avrei potuto fare, l'indicatore va a servire come filtro. Se io faccio il percorso inverso, faccio una confusione. Ed è difficile all'inizio, perché solamente il fatto di tenerli, gli indicatori sul grafico, possono portare specialmente il neofita a vedere molto più visivamente, molto più lucidamente, molto più chiaramente i segnali che derivano dall'indicatore, piuttosto che lo studio del prezzo. Ecco perché io consiglio addirittura di toglierli e di reinserirli, se si vogliono usare, solo e soltanto nel momento in cui noi siamo già convinti, al 95%, di fare quell'operazione. Poi uno può studiare il proprio schema quantitativo per andare quindi a venire in supporto ad un'analisi grafica che già di per sé ci aveva praticamente convinto di fare l'operazione. Questo è il giusto modo di lavorare. Se si fa il percorso inverso, praticamente non ci si riesce, non ci si riesce in nessuna maniera. Questo vale assolutamente per il trading discrezionale. Se vogliamo aprire una piccola parentesi sul trading automatico, dobbiamo considerare che innanzitutto il trading automatico, i vari segnali, le varie strategie che possono venire fuori da un mescolamento di indicatori, le fanno tutte perisseguamente senza saltarne una, hanno degli stop loss e dei take profit che sarebbero difficili da sopportare per un trader discrezionale a livello di tempo e psicologicamente, infatti la psicologia viene meno, e hanno di base una diversificazione del portafoglio che porta queste strategie a funzionare, diciamo, correttamente nel loro insieme con dei periodi dove può darsi che tutto questo non funzioni. ma, attenzione, attenzione, i migliori trading system fanno un uso molto piccolo degli indicatori e ne usano solamente alcuni che sono sempre gli stessi. Ma a noi questo ci interessa relativamente, concentriamoci su quello che è il trading discrezionale, su quello che costituisce la maggior parte del nostro trading e quindi si studia il prezzo e poi, proprio se, si cerca una conferma quantitativa sull'indicatore. Questo è il modo giusto di ragionare. Se ti è piaciuto il video, condividilo, commentalo, iscriviti al canale YouTube. Ti ricordo che alle 19 di questa sera ci sarà il webinar, quindi ti lascio il link per iscriverti alla community così potrai vedere il webinar in diretta oppure rivederlo successivamente registrato. Un caro saluto da tutto il team di Professione Forex, continueremo a parlare di indicatori e di analisi grafica e per il momento è tutto. Ciao!